Riccardo Maccioni della Chimica Service, anche lui qui in Fiera Milano Rò. Questa edizione di Linea Pelle per l'inverno 2016-2017. Come hai visto i tuoi clienti? Ieri è stato un giorno abbastanza un po' lento, oggi i clienti tutti abbastanza contenti e hanno ricevuto diverse proposte di lavoro, di ordini, di progetti, quindi siamo soddisfatti. Cosa avete presentato per questa edizione Riccardo? La presentazione dei prodotti che i nostri clienti hanno portato qua è tutto molto soft come sempre negli ultimi anni basandosi sempre sulla pelletteria dove abbiamo ricercato sempre più naturalezza con resistenze che oggi sono necessarie per ottenere dei risultati accettabili dai brand. E soprattutto i brand hanno fatto la loro presenza qui agli stand di Linea Pelle. Ricordiamo Winter 2016-2017 e come sempre Santa Croce sull'Anno e il distretto è all'avanguardia, soprattutto voi che fate per primi questi prodotti. Certo, sì, siamo molto soddisfatti di questo perché abbiamo visto che sono stati recepiti in modo come sempre positivo, quindi siamo soddisfatti.